Ben ritrovati dall'Ippodromo del Mediterraneo, è tempo ancora di galoppo, ci avviciniamo ovviamente al momento clou all'Ippodromo del Mediterraneo, al meeting dell'8-9 dicembre, ma intanto sabato 2 un nuovo convegno interessante abbinato all'Ippodromo del Mediterraneo, la seconda triste per il premio Bucharest, un handicap discendente che impegnerà i tre anni ed oltre sui 1700 metri della pista grande. Un'altra prova abbinata all'Ippica nazionale, ma la prova di maggiore dotazione la ritroveremo nel premio Bucharest, che sarà una condizionata che impegnerà i tre anni ed oltre, che saranno impegnati sui 1200 metri della pista sabbia. Le corse comunque in programma, l'apertura alle 15.30. Prima di addentrarci in quella che sarà la disamina delle sei corse previste, noi ci siamo soffermate su un cavallo che sabato scorso non ha deluso le aspettative del team, e quindi parliamo di French Alps che lotta con Forex e vince un handicap tris nel convegno precedente. A tal proposito noi siamo scese in scuderie e abbiamo ascoltato il fantino Sebbi Macca che è impegnato particolarmente nelle preparazioni di French Alps. Vediamo il video. Corre coperto, con i cavalli schierati a ventaglio nell'ultima fase di una gara dove Sambuco e difenditi hanno garantito una buona andatura. Poi trova un varco interno Giuseppe Canarella e su French Alps si stacca e lotta con il buon Forex, montato da Mangione. E la cronaca del premio Barano, handicap sui 1900 metri della pista sabbia abbinata alla triz nazionale, triz quartet quintet che vede French Alps, portacolori della scuderia di Massimo Chiaia sotto il training di Salvo Lenteri, fare quota 7.51 al vincente, seguito da Forex, Sopran Cosmic, Perla dell'Etna e la leggerissima Noma Delfia. Cavalli ai 100 finali con Sopran Cosmic, leggero vantaggio, poi allargo Perla dell'Etna, per Varchi, sbuca anche French Alps, French Alps e Forex si staccano in lotta, French Alps e Forex, poi Sopran Cosmic. French Alps dietro di te, Sebi Macca, come è andata l'ultima corsa? Sambuco e difenditi hanno fatto questa andatura che comunque è stata ben sostenuta, poi ha trovato un varco centrale. Sì, il cavallo ha corrisposto abbastanza bene, me lo immaginavo, ci credevo in quella corsa, di più non ci credevo non tanto perché per la forte andatura che fanno ogni volta che in corsa si trova un po' in barazzo in partenza, però come se è giusto a far vedere la sua volontà. È andato bene nell'allungo con Forex, ha dimostrato che comunque aveva mezzi? Sì, i mezzi ce l'ha abbastanza bene, li fa vedere, lui addirittura come se è giusto fa vedere la sua grinta. È un cavallo un pochettino antipatico perché nel passare lui si ferma con le battistrata, però quando mette il turbo lo mette. Il 28 di ottobre viene a Siracusa, si fa subito una corsa in reclamare sui 2100 metri, arriva secondo, fa ben sperare però un po' delude poi sulla condizionata Tris, cosa non è andato? Sicuramente c'è stato qualcosa che non è andato perché il cavallo addirittura non ha progredito come lui fa in genere. Ha recuperato? Sì, sì, però è recuperato abbastanza bene, infatti il cavallo in corsa si appoggiava un pochettino a te, si difendeva, poi trovate il difetto cosa era stato. Inizia la sua carriera agonistica a Pisa fine anno del 2013, poi varca vari campi Milano, Firenze, Pisa e Roma. Apre a Siracusa a metà ottobre di quest'anno sulle lunghe distanze, non nasconde le sue potenzialità, vince sul terreno faticoso della sabbia in un contesto da buoni riferimenti. Ottima la condizione e la forma, possente e ben strutturato muscolarmente, dagli occhi vivaci e dal temperamento ragazzino. Lo French Alps viene descritto così da chi si prende cura di lui, Sebi Macca. Lui è un castrone, nato il 10 marzo 2011, il padre è Trivallis, la madre è Phil, sicuramente ha una sua genealogia. Cosa preferisce? Terreno buono, tracciato più pesante, visto che adesso è in sabbia e insomma è migliorato? Sì, il cavallo suo ha fatto il pesante, lo gradisce il pesante, però giustamente i terreni cambiano. Milano pesante è una cosa, Siracusa è pesante un'altra cosa. Per me pesante Siracusa lui non lo fa tanto bene, per me preferisce il duro su Siracusa. E la sabbia? La sabbia la fa abbastanza bene. Quindi è un duttile. Sì, sì, sì. Invece i lavori mattutini, come si comporta? I lavori mattutini, secondo me non ci sono cavalli che lo possono battere, perché nel lavoro mattutini è un cavallo veramente che fa vedere che è un cavallo da corsa. Caratterialmente? Un po' nervoso, però gestibile. Quali sono i suoi impegni futuri a questo punto, guardando anche al mese di dicembre, che è il mese dei grandi appuntamenti? Noi stiamo preparando un pochettino per l'8 di dicembre nell'handicap principale 2003, speriamo che gli dà un peso regolare e vediamo cosa riusciamo a fare. L'apertura intanto è affidata al premio Craiova, un handicap discendente alle 15.30 prima sgabbiata, ci sono i tre anni ed oltre al confronto sui 1100 metri della pista sabbia. Una prova che ne vede raccolti cinque agli ordini dello starter dopo la non partenza del numero uno dello schieramento, Argen. Una prova questa aperta dove Madame Baria potrebbe essere la base per quanto mostrato in questo periodo. Noi lo abbiamo chiesto al suo allenatore, a Erasmolo Piparo, che in corsa presenta anche Big Hero, Neon Glitter e Cut Lady. Sentiamo. Allora, la prima corsa schieriamo quattro cavalli, due sono rientrati da poco e penso che verranno avanti dopo la corsa di rientro e quindi possono lottare la corsa all'altra. Chi? I cavalli sono Big Hero e Neon Glitter che rientrano dopo tempo e penso che verranno avanti. Madame Baria è una cavalla che è sempre piazzata ultimamente e sta correndo bene. Cut Lady rientra dopo tanto tempo, la distanza non è congeniale quindi penso che è l'unica da escludere. Dicevo, la prova di maggiore dotazione è il premio Budapest, seconda prova del pomeriggio. 11 mila euro la dotazione di una condizionata che impegna tre anni ed oltre sui 1200 metri della pista Sabia. Una prova che vede soggetti di ottimo livello. My Man per qualità e forma ha piazzato in contesti interessanti e quindi non può che chiudere il pronostico. Si va alla caccia quindi dell'alternativa, della migliore alternativa che potrebbe essere il compagno di scuderia My Saxy Week che sta correndo molto bene. Viene da due successi e punterebbe al terzo anche se insomma ovviamente deve battere dei battersi contro Stacoli Duri e San Giorgio Cross che quindi sale la categoria. E noi lo abbiamo chiesto al suo allenatore Salvo Campisi. Sentiamo. I soggetti veramente sono di ottimo livello considerando che c'è My Man, vincitore di una lista, piazzato del Divino Amore a Roma quindi siamo il top che ci può essere a Siracusa quindi la corsa è molto impegnativa. Quindi cosa si aspetta? E quindi dovrebbe esserci My Man che chiude il pronostico perché vinceremo sempre 7-8 condizionate più la lista e il cavallo di questi qua è molto superiore. Però le corse si devono effettuare e quindi vediamo quello che succede. Sulla carta che chance diamo a San Giorgio Cross? Guarda San Giorgio Cross se devo vedere i discendenti e quindi ragionare con l'handicapper lo metto quasi a pari peso con My Saxy Week. Ha 4-5 kg di My Man quindi diciamo My Man fuori corsa e San Giorgio Cross e My Saxy Week dovrebbero disputarsi la migliore piazza. I due anni in pista per la terza del pomeriggio. Il premio Varsavia è un handicap discendente sul miglio della pista grande. Sono in otto agli ordini dello starter. Abbiamo un Yellow Fox che apre appunto la periziata e che potrebbe essere definito il migliore dell'otto. 63 kg e mezzo di perizia a dimostrare proprio i buoni mezzi e le buone potenzialità mostrate da questo allievo di Stefano Possiglione. Le alternative migliori. Il pesante forse valore speciale ma dobbiamo forse scendere un po' e attenzionare la scala bassa dell'aperizio con White Island, Madame Stefanie e Medicine Woman che sarebbero pronti a ribaltare il pronostico. Sentiamo in questo caso l'allenatore Erasmolo Piparo che ci parla soprattutto di Madame Stefanie e poi del contesto da affrontare. La terza corsa è un discendente per due anni dove io schierò Madame Stefanie, una cavalla mai piazzata. Penso che sia una corsa dura. Speriamo che questa volta riesca a prendere una piazza. I cavalli che mi piacciono sono sicuramente la scala alta della corsa con un valore speciale soprattutto per Yellow Fox e Baby Cat. La seconda attrice, dicevo, è affidata ancora all'ippodromo del Mediterraneo. Il premio Bucarest, un handicap discendente. Ci sono i tre anni ed oltre al confronto sui 1700 metri della pista grande. E qui si guarda soprattutto in alto, si guarda Lord Shaking che è un cavallo di buonissimi mezzi. Ha un North Island e Martin Blond che mostrano una condizione davvero invidiabile. Quindi ancora considerati della partita. Denobol è un cavallo che è in netta ripresa. Sta correndo bene nel periodo, nel contesto può ancora starci. E qui, così come scendendo un po', vediamo un Lubiondu che gradirebbe forse qualche goccia di pioggia in più sul terreno. Ma sentiamo cosa ci ha detto il suo allenatore, Salvo Gianni. Sì, è un cavallo ontriani che sta correndo molto bene in questa pista di Siracusa. Spero che se la bocchetta è più morbida il terreno può correre ancora bene. I protagonisti chi possono essere? I protagonisti è una bella cosa, ci stanno quasi tutti. Perché Nottisa, l'ottomonti ha vinto. Matti Blondi ne ha vinto tre. Anzi, Ereau, un cavallo che non sta andando, ma un cavallo in questo contegno ci sta benissimo. Tenoboli, l'ottomonti e il secondo, Coppia dei Tadaloni, ci possono stare tutti. Una prova molto aperta, quindi. Proviamo a fare comunque tre nomi. Coppia dei Tadaloni, lo biondo e tenoble. E abbiamo ascoltato anche un parere fuori campo. Il proprietario, Franco Lo Giudice, non impegnato quindi direttamente in corsa, ma che ha voluto comunque fornirci i suoi papabili. Sentiamo. Ma guarda, a me piace il numero uno, Lord Scraini, quello che monta Cannarella. Un altro cavallo che mi dà nell'occhio è Martin Blondi, che ultimamente ha corso bene. E un altro cavallo che piace tantissimo è Tenoboli, sta facendo bene ultimamente. Abbinata all'Ippica nazionale, la quinta del pomeriggio, il premio Timisoara, un reclamare che impegna tre anni ed oltre sul miglio della pissa grande. E qui c'è una linea che emerge, quella tracciata da Terribile, che vince alla prima uscita sul tracciato e sembrerebbe pronto al bis. In quella occasione Greybet finisce sul podio conquistando la terza moneta e ancora una delle possibili protagoniste. Tra gli altri, Ciumbalic, che è un cavallo alterno, ma che nel contesto potrebbe inserirsi. Ci sono dei debutti sul tracciato, è quello di Farcar, proposto da Salvatore Cutrale, quindi un neoacquisto per il team. Vedremo come si comporterà, ovviamente le prospettive sono delle migliori. Così come un pacchianillo che affronta anche lui la prima uscita sul tracciato. Vedremo in che condizione. Salar Glorious è da poco alla corte di Carmelo Zarbo, è un cavallo che magari ultimamente non ha brillato particolarmente, ma è un cavallo di ottimi mezzi, buoni trascorsi che potrebbe mostrare in qualsiasi momento. Così come Grey Dancing, ancora attesa, non riesce a ritrovare la migliore forma. Vedremo come il team la ripresenterà. Noi ci soffermiamo su questa corsa con Erasmolo Piparo che schiera Grey Bet. Questa è una bella reclamare, ci sono dei buonissimi cavalli. Noi schieriamo Grey Bet, che è una cavalla che secondo me è l'ultima sfortunata, però penso che questa volta si possa rifare. I cavalli principali che temiamo sono Salar Glorious e Talib, poi c'è Grey Dancing che si parla sempre bene, però in corsa ancora non è dimostrato tutto il suo valore. Un rientro atteso per la verità, quello di Walif, numero 9 dello schieramento, che ha mostrato delle buone sensazioni al team e quindi noi lo abbiamo chiesto al suo proprietario, Raffaele Gambino. Sicuramente è un cavallo che rientra dopo sette mesi, siamo penalizzati solo su questo punto di vista, però abbiamo un terreno a nostro favore, un terreno morbido che lui piace tanto. Come prima chance ti do il numero 7, che l'ho visto lavorare bene sull'erba, Salar Glorious, questo di Vincenzo Caruso. Come seconda chance ti do Terribile che vince davvero bene all'ultima, il numero 1 e poi come chance ti do quello mio, Walif. E ci avviamo quindi alla chiusura con il premio Cracovia, un handicap discendente che impegna i tre anni sul doppio chilometro della pista sabbia. Captain Glow e Digo Niente sarebbero i soggetti che così sulla carta salterebbero all'occhio. Nasce molto bene il Travelling Time, uno ZBD che debutta a Siracusa senza clamore sui 2100 metri della pista piccola, adesso si sposta e prova il DERT. Vedremo se riuscirà a migliorarsi. È un debutto in pista per Bella Vichinga, novità di Gaetano Moricca. Su Bell Ringis, cavallo che sembra aver superato un periodo un po' negativo e che quindi gode della stima del suo proprietario, Franco Lo Giudice, che abbiamo ascoltato. Il cavallo ha avuto molti problemi l'altra scorsa, l'abbiamo un po' sistemato, sta andando bene, sta andando anche fisicamente, sta andando bene, quindi speriamo in una buona piazza. Guardiamo questo campo partenti, da chi dobbiamo difenderci? Secondo me il cavallo da battere è Captain Glow, che è un altro cavallo che mi piace da tanto e dico niente. Bene, e con questo è tutto. Abbiamo passato in rassegna tutte le sei corse previste nel convegno di galoppo di sabato 2 all'ippodromo del Mediterraneo. Vi ricordo l'apertura alle 15.30 e quindi vi aspettiamo. Arrivederci. Grazie.